Life, la mia storia nella storia. Dalla giovinezza in Argentina all'elezione appuntina. In sua prima autobiografia, il primo punto di vista. Ricordo il libro, Life, la mia storia throughout history. It's available in stores. Papa Francisco sta lanciando la prima autobiografia. Prima in classifica. Un punto di riferimento per molti anche che non credono. Nel 21 paesi del mondo. Il nuovo libro del Papa Francisco. È un libro emozionante, intenso, pieno di umanità. Buonasera a tutti. Avete visto questo brevissimo filmato che dice quanto interesse abbia suscitato questo libro fin dallo stesso giorno della sua uscita. Uscita contemporanea in 21 paesi. Fabio Marchese Ragona, qui accanto a me e accanto a Luciano Clerico che condurrà questa serata. Dicevo, Fabio Marchese Ragona è un giornalista. Giornalista piuttosto giovane, almeno nel rapporto a noi, diversamente giovane. Nato a Milano, da famiglia siciliana. Laureato a Roma. Ha studiato al Master di giornalismo dello Iulm. E da quando è entrato nella professione si occupa prevalentemente di Vaticano dal 2012 e poi dal 2018 è diventato a tempo pieno il vaticanista delle reti televisive Mediaset. Dunque lui racconta in televisione il Papa e tutto ciò che riguarda il pontefice e il Vaticano e poi lo racconta anche, lo ha fatto, lo ha fatto e lo fa, lo ha fatto anche in questo libro, racconta il pontefice anche nei libri. Nel tempo si è conquistato la fiducia di Papo Bergoglio, tanto che nel 2021 ha potuto realizzare una intervista in esclusiva mondiale che è stata vista in Italia da 5 milioni e mezzo di telespettatori. E poi è arrivato questo libro. Quest'ultimo libro è un po' particolare, come avremo modo di vedere questa sera. È la storia di Horge Bergoglio che si alterna con la storia del mondo. Si interseca fra queste due, diciamo, queste due storie e ne viene fuori un qualche cosa di diverso da un libro normale. Ecco, come è nata, la prima domanda, come è nata questa idea di libro, soprattutto questo modo di fare questo libro? Allora, grazie intanto a tutti, grazie a Gabriele Tacchini che mi ha invitato, all'hotel Mirella che mi ospita e che ha voluto organizzare anche questa iniziativa. Grazie mille, Luciano, per essere qui e grazie ovviamente a tutti voi. Questo libro, come diceva Gabriele Tacchini, è un libro molto particolare perché non era mai accaduto nella storia che un Papa raccontasse la propria vita facendo un libro. Questo Papa ci ha sorpreso anche in questo caso, possiamo dire, perché è nato un po' da una mia curiosità giornalistica. Mi interessava capire questo Papa, ad esempio, cosa pensava quando c'è stato lo sbarco sulla Luna, o ad esempio quando è finita la Seconda Guerra Mondiale, che lui era un bambino. Come ha vissuto quel momento, se lo ricordava ancora. Anche quando è scoppiata la Seconda Guerra Mondiale, lui aveva tre anni e nel libro racconta che aveva questi flash in famiglia, che arrivavano queste lettere, magari poi approfondiamo. E quindi da un lato la curiosità giornalistica di capire il Papa come ha vissuto questi momenti che sono entrati nella storia. La cauta del muro di Berlino, le torri gemelle, le bombe atomiche, lo sbarco sulla Luna, tutti questi momenti che hanno segnato l'umanità. E poi perché mi ha colpito una frase che aveva detto il Papa, che diceva che ognuno di noi, prima che sia troppo tardi, aggiunge, dovrebbe ogni tanto riaprire il libro della propria vita e fare una revisione di tutto. Riaprire il libro della propria vita e rivedere le gioie, i dolori, i peccati commessi, i traguardi raggiunti. Un lavoro di discernimento sulla propria persona, su se stessi. Che è quello che alla fine ha voluto fare il Papa. Infatti quando io gli ho proposto questa idea, lui mi dice ma che intenzioni hai? E dico no, ma io vorrei che arrivasse questo messaggio. E lui ha detto beh, in effetti io sono un anziano, posso dare una testimonianza di ciò che ho visto con i miei occhi, perché soprattutto i ragazzi possano evitare e non ripetere gli errori che sono stati commessi nel passato. Ed errori ne abbiamo visti tanti a partire dalle guerre. Quindi lui dà una testimonianza, una testimonianza della propria vita, racconta la sua vita, lo fa con grande semplicità, lo fa senza filtri, perché ha voluto davvero aprire il cuore dicendomi io apro il cuore a te sapendo che poi arriverà a tante altre persone. Stamattina gli ho scritto, lo dicevo prima a Gabriele, stamattina gli ho scritto un messaggio dicendo che sarei venuto a Ponte di Legno a presentare il libro e che nei prossimi giorni andrò in Veneto, ho detto sono un po' in giro per presentare il libro. E lui oggi pomeriggio, ho ricevuto una mail, oggi pomeriggio verso le tre e mezza, quattro, quando ero già arrivato qui, ero su in camera, e mi ha scritto un messaggio scritto a penna in cui dice ti dai da fare, bravo, continua così perché è importante, io ci tengo che i miei messaggi possano essere, possano arrivare. E quindi è un libro che è nato così, con grande spontaneità, con la voglia di raccontarsi da un lato per farsi conoscere da chi non lo conosce, poi soprattutto per lanciare dei messaggi forti, messaggi forti sulla pace, messaggi forti sulla vita, e quindi apre il suo cuore per dare dei messaggi e dare una testimonianza, principalmente. Che invidia, lo dico da giornalista, avere un rapporto così diretto con niente meno che col Papa. Per noi giornalisti creare un rapporto di fiducia con una persona che conta vuol dire raggiungere un traguardo professionalmente. E lui niente meno l'ha costruito col Papa, complimenti. È una cosa che ancora non riesco a... Tanti mi dicono, ma come ti senti a sapere che... E io dico, forse non ho ancora realizzato, perché è una cosa talmente incredibile, perché ti ritrovi a stare lì con il Papa, due, tre ore, quattro ore a parlare, ti racconta la sua vita e sai che è una persona semplicissima, di una semplicità unica, che ti chiede come va a casa, togli la giacca, che però allo stesso tempo è il Papa. Quindi sai che hai di fronte... Hai di fronte... Che ti dice mangia. Che mi dice mangia, che mi dice mangia ti... Qui, sì, poi io... Poi ci arriviamo, magari. Però è il Papa, è il vicario di Gesù, e quindi ti ritrovi a contatto con questa persona speciale. È il monarca assoluto, è l'ultima monarchia assoluta che esiste sulla Terra. Va bene, niente. L'introduzione comincia così. Quindi impariamo dalla storia, soprattutto dalle pagine nere della storia, per non commettere più gli errori del passato. Questo libro, ci dice Fabio, è l'invito che fa il Papa al lettore, ma le parole non sono del Papa, sono le sue. Si sono messi d'accordo per scriverlo in questi termini. Un po' scrive lui, un po' scrive il Papa. E questa alternanza di voci permette di dare ordine a un filo logico che è scandito dai grandi momenti della storia del Novecento, come ha detto prima Fabio. Però ogni tanto troviamo dei virgolettati propri del Papa. e nell'introduzione troviamo questo. Quando lui invita, con le parole di Fabio, impariamo dalla storia, soprattutto dalle pagine nere della storia, per non commettere più gli errori del passato, poi troviamo anche che cosa significa avere, come dire, imparare dalla storia. Qui è il Papa che parla. Ascoltate che bello. La nostra vita è il libro più prezioso che ci è stato consegnato. È un libro che tanti, purtroppo, non leggono, oppure lo fanno troppo tardi, prima di morire. Eppure, proprio in quel libro, si trova quello che si cerca inutilmente per altre vie. Possiamo chiederci Ho mai raccontato a qualcuno la mia vita? Si tratta di una delle forme di comunicazione più belle e intime, raccontare la propria vita. Essa permette di scoprire cose fino a quel momento sconosciute, piccole e semplici, Ma, come dice il Vangelo, è proprio dalle piccole cose che nascono le cose grandi. Io trovo che questo approccio, questo metodo di scrittura, sia fantastico. E qui ti faccio i complimenti e nel mio piccolo li faccio anche a Papa Francesco, evidentemente, che ha scelto un metodo di comunicazione formidabile per raccontare la sua vita. Qui dentro racconta la sua vita, la sua storia di persona, ma nello stesso tempo la mette in relazione alla grande storia, ai grandi avvenimenti del Novecento. Questa cosa, apparentemente semplice, semplice non è. Perché è come se di fronte, che ne so, alla bomba di Hiroshima e di Nagasaki, che ha colpito tutti, che ha sconvolto tutti, e poi arriva una riflessione semplice che riguarda la sua vita di persona. Per cui commenta quell'evento, ma nello stesso tempo lo circoscrive. Formidabile. Dunque, questo ti chiedo, scusate l'introduzione un po' lunga, come hai fatto a convincere Papa Bergoglio a impostare in questi termini il libro? Perché so che è una cosa tra te e lui e basta, non c'è ufficio di comunicazione che tenga. No, è nata molto spontaneamente. Quando io gli ho scritto dicendo che c'era questa idea, che avevo avuto questa idea di fare questo libro, lui mi ha telefonato. Mi ha telefonato direttamente, ovviamente senza filtri, senza nessuno, dicendomi raccontami un po' l'idea che vorresti realizzare e mandami un indice. Io ho mandato un indice con i vari periodi storici, i vari eventi della storia. E lui appunto ha voluto dare questa testimonianza. Ma mi ha fatto una raccomandazione. Mi ha detto, dice, da noi in Argentina si dice non voglio sembrare il gatto che si lecca il pelo. non voglio autocelebrarmi. E quindi abbiamo pensato a questa voce del narratore che introduce, che racconta il contesto in cui si sviluppa quell'evento e lui poi che interviene e racconta ad esempio il giorno quando è finita la guerra. Il narratore racconta che la famiglia Bergoglio si stava sedendo a tavola, la mamma stava pensando a preparare la pasta, la nonna dava una mano alla mamma a cucinare, i fratellini erano tutti lì e poi interviene il Papa e inizia a raccontare e dice ed eravamo lì e a un certo punto abbiamo sentito qualcuno che urlava fuori dalla finestra, fuori dalla porta. Era un'amica della mamma, la sua vicina di casa che la chiamava signora regina, signora regina venga fuori. Tutti abbiamo pensato a qualcosa, è successo qualcosa. Intanto iniziò a suonare la sirena del giornale, la prensa e questa donna appena la mamma uscì fuori e altri inziavano ad affacciarsi questa donna urlava e piangeva e diceva è finita la guerra, è finita la guerra e dice quello è stato il più grande insegnamento che io potessi avere perché eravamo lontani lontani dai teatri di guerra che era in Europa principalmente noi eravamo in Sud America e queste due signore la mamma e la sua e la vicina piangevano perché finalmente c'era la pace e quindi dice quello è stato il più grande e questo mi ha fatto capire anche perché lui insiste tanto sul tema della pace perché ha avuto quell'insegnamento lì la gioia di due persone semplici che piangevano perché finalmente c'era la pace e davvero non è il gatto che si lecca il pelo perché è un libro dove sì c'è lui che racconta se stesso ma ci sono tanti volti in questo libro c'è il volto della nonna che è quella che lo accompagna in chiesa che gli dà il primo annuncio cristiano che gli insegna che il sudario non ha le tasche che gli dà tanti insegnamenti c'è la mamma c'è il papà c'è Esther che era la sua insegnante la sua la sua capa al laboratorio chimico che dice mi insegnò a pensare quindi ci sono tanti volti e tante figure tante persone che lui racconta e che ricorda se io ti dico via Montbrillar 531 Barrio Flores Buenos Aires tu cosa mi rispondi? quella è casa sua la casa dove è nato la casa dove è nato Papa Francesco e anche lì quando correggevamo il libro perché dovete sapere che man mano che facevamo questi incontri io poi man mano che scrivevo i capitoli glieli mandavo via email e lui mi telefonava per fare la correzione ma telefonava in momenti in cui magari ero al mare o magari ero che stavo cucinando dice hai dieci minuti che facciamo la correzione di di questo capitolo e lì proprio sull'indirizzo di casa io a un certo punto ho detto Santo Padre guardi che ci sono lei mi ha detto questo indirizzo qui è sicuro che sia questo l'indirizzo perché ho letto che vari storici parlano di un altro indirizzo come suo indirizzo e lui mi ha detto eh caro vedi a volte la mia memoria fa degli scherzi ma dice ti posso assicurare che io ho una memoria d'elefante e ho detto ci credo assolutamente come mettere in dubbio e dice no gli storici parlano di un indirizzo dove io ho vissuto da zero a due anni poi da tre anni a sette anni sono andato in quell'altro indirizzo lì e il momento cui racconta che aveva tre anni appunto era nell'altro indirizzo quindi mi ha corretto persino i refusi i refusi mi ha detto guarda che la terza riga della pagina 17 c'è un errore dico corregge pure l'italiano dice vedi la nonna mi aveva insegnato l'italiano vedi che mi sarebbe servito un giorno da via Montbrillar del barrio Flores arriviamo al collegio Wilfrid Baron di Los Santos a Ramos Moia che cos'è? e lì lui poi inizia siamo nel 49 prima eravamo nel 39 qui siamo nel 49 che cos'è? siamo nel 49 e praticamente lui aveva 10 anni no 36 aveva 13 anni comunque inizia inizia a fare il collegio e inizia a frequentare il collegio dei Salesiani inizia a frequentare il collegio ma anche la scuola e quelli sono anni importantissimi per Papa Francesco che era ancora il piccolo org perché lì inizia a capire cosa vuol far da grande allora la mamma voleva medico lui aveva un'altra idea perché c'era un sacerdote che lui chiamava che anzi i Salesiani chiamavano il pescador perché era un pescatore di giovani che girava tutti i collegi salesiani e con lui aveva avuto un dialogo e Papa Francesco mi ha detto con quel prete io avevo iniziato un dialogo sul tema della vocazione ma poi è rimasto sepolto lì non non è successo nulla sarebbe poi scoppiata più avanti nel 57 sarebbe arrivata dopo la vocazione e però lui lì inizia a formarsi inizia a studiare e dice che gli insegnavano appunto queste tecniche mnemoniche e dice mi servono ancora oggi perché da Papa è importante ricordarsi tutto perché altrimenti è la fine e quindi inizia questo percorso che poi lo porta alla vocazione sacerdotale in un giorno di primavera però non tutti apri no 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 volevo dire un giorno un giorno particolare mentre stava andando a tutt'altro a tutt'altra cosa da quello che si racconta nel libro sì sì era la festa dello studente iniziava la primavera e gli amici lo aspettavano in stazione per partire dovevano andare a fare un picnic lui passa davanti alla chiesa dove era solito confessarsi diceva entro saluto il Signore saluto Gesù entra lì gli viene in mente di confessarsi non c'erano i soliti confessori che lo confessavano c'era un prete che non conosceva che si trovava lì di passaggio perché stava curando la leucemia inizia a confessarsi e dice e lì racconta lo racconta nel libro dice lì è successo qualcosa di sconvolgente per la mia vita dice Dio sentivo che mi stava anticipando sentivo la sua vicinanza e miserando acqua e leggendo si legge si legge nelle meditazioni di San Beda venerabile caddi come folgorato e lì dice altro che studenti altro che amici alla stazione cioè me ne sono scappato di corsa a casa perché avevo bisogno di rimettermi in sesto con le idee e di pensare a qualcosa e lì lui dice che per diversi giorni non parla con nessuno per settimane addirittura mesi non parla con nessuno di questa sua volontà di diventare prete tant'è che la mamma aveva detto che stava studiando per diventare medico poi un giorno la mamma gli trova sulla scrivania libri di teologia e di filosofia e dice ma scusa non studiavi medicina e lui risponde sì mamma io non ti ho detto una bugia io sto studiando medicina medicina dell'anima però e quindi è andata così e poi ho dovuto chiedere a un sacerdote di far da tramite perché i genitori erano un pochino resistevano un po' diciamo e poi questo prete salesiano don Enrico Pozzoli ha aiutato tanto i familiari anche a far capire che era una scelta una scelta che avrebbe dato un futuro al figlio secondo la strada che voleva percorrere pensate che questo prete da qui è andato a confessarsi e che lui racconta nel libro che si si chiamava Carlos Duarte Ibarra e che di fatto ha come dire folgorato con quella confessione la lo spirito giovane ragazzo di di padre Bergoglio sarebbe morto l'anno dopo era malato di leucemia e forse è questa l'intensità di quella confessione resta il fatto che era il 21 settembre del 1953 come ricordi giustamente e quel giorno colui che sarebbe diventato papa avvertì che non poteva non fare il prete la chiamata la vocazione ed è bravissimo nel raccontarlo adesso vediamo un breve filmato che anticipa quelli che sono gli altri temi del libro e che riguardano il diciamo la storia del mondo è un Ecco, sono tutti avvenimenti di portata straordinaria sui quali il Papa si sofferma nel libro. Io ti chiedo soltanto una cosa, quale di questi ti ha colpito di più? Mi ha colpito tantissimo il suo racconto di quando c'è stato il crollo del muro di Berlino per due motivi. Il primo è perché lui in quegli anni si trovava, dice, in esilio per punizione. Era in esilio per punizione. Non stava bene, dice, ero un po' depresso, ero un po'... E lì ho notato che lui ha aperto davvero il cuore, perché avrebbe potuto non raccontarlo. E invece racconta anche questo momento di debolezza, dice, ero depresso, ero chiuso in me stesso, non parlavo con nessuno. E poi, visto che lui era così depresso, perché non capiva perché l'avevano mandato per punizione lì. Poi tra le righe lo dice. Però tanti poi iniziarono a infangarlo, pure dicendo, Bergoglio è pazzo, ha dei problemi. In realtà, lui dice, è vittima di mobbing. E lui però dice, no, questo qui lo devo smentire, perché non ero vittima di mobbing. Il mio superiore aveva deciso a un certo punto che forse, quando ero io il superiore, adesso c'era stato un cambio di governo, quando ero io il superiore forse aveva avuto delle scelte un po' troppo dure, tant'è che lo accusarono di essere ultraconservatore. Delle scelte dure di governo. E il suo successore, quello che poi comandò, i gesuiti in Argentina, lo mandò in quest'esilio a 800 chilometri da Buenos Aires. E lui lì si chiude a Riccio e faceva il confessore e si occupava dei sacerdoti più anziani, dei sacerdoti ammalati, e quindi dormiva con loro, li accudiva, li aiutava quando dovevano lavarsi. Quindi si è messo al servizio dell'altro. Adesso lo sentiamo spesso che parla, la Chiesa deve essere al servizio, la Chiesa non è privilegio, perché lui l'ha vissuto sulla sua pelle. E tante cose che lui dice oggi, io le ho capite, perché le ha vissute lui sulla sua pelle. Tema dei migranti. Lui racconta l'attraversata in mare dei nonni, di suo papà Mario, che sono vivi per miracolo, accolti in un centro d'accoglienza. Quindi lui l'ha vissuto personalmente, nella sua famiglia, questo tema dei migranti. La Chiesa non è privilegio, la Chiesa è servizio. Lo ha vissuto sulla propria pelle. E lì mi ha colpito il tema del muro di Berlino, perché lui dice, e mi chiamarono, ero nella mia stanza, mi chiamarono, guarda Orge, metti subito, accendi la televisione, sta succedendo qualcosa di incredibile. Lui accende la tv e vede queste immagini di queste famiglie che rompono il muro e si riabbracciano. E anche lì mi ha stupito per la seconda volta perché mi ha raccontato, e racconta a tutti in realtà, non a me, sì, io faccio da tramite, io ci ho messo la penna e lui il cuore, mi piace dire. E lì racconta, dice, vedi, ero emozionato nel vedere quelle immagini del muro di Berlino perché vedevo tante famiglie che finalmente si riabbracciavano. Dice, invece, io devo dire che nella famiglia materna ci sono stati sempre litigi, sempre guerra in famiglia, cugini, zii che non si parlavano, fratelli e sorelle che non si parlavano. Un'altra cosa che mi ha colpito, cioè, dico, ha aperto il cuore davvero senza filtri. E quindi mi ha colpito molto quel racconto lì del muro di Berlino. E poi il racconto del golpe in Argentina perché per lui è stato davvero una grande sofferenza, desaparecidos, tutta questa gente che spariva, lui ha perso tanti amici e dice, è stato un genocidio generazionale. E lui fu accusato di connivenza con il regime argentino e, devo dire, per la prima volta, tecnici, colleghi, storici che hanno studiato mi hanno detto, guarda, per la prima volta lui diceva delle cose che non aveva mai detto e questo mi ha colpito molto perché racconta di gente che aveva in collegio, dice, possibilmente erano delle spie, ero intercettato al telefono e sviavo un po', dicevo delle cose strane per sviare chi ci ascoltava, la polizia segreta. racconta che andò a casa di Videla, davvero, dice, andai a casa di Videla a celebrare messa con un inganno, chiesi al cappellano militare di darsi malato e andai io a celebrare messa a casa di Videla, ma per un motivo, per parlargli e dirgli di liberare quei due sacerdoti che erano stati rapiti. E invece poi hanno costruito un cinema su questa storia dicendo che lui era connivente con il regime, ma in realtà poi fu addirittura interrogato per quattro ore e non uscì nulla perché, anzi, uno di quei giudici poi gli confidò che il governo dell'epoca gli aveva chiesto di mettergli, lui dice, un cappio attorno al collo, dice, però alla fine ne sono uscito sano e salvo. Alla radice di questa storia c'è il nome di una sua maestra, chiamiamola così, paraguaiana, che si chiama Ester Ballestrino, comunista, convinta, marxista. Siamo negli anni quando lui aveva vent'anni, insomma, anche prima forse. Questa Ester Ballestrino ha un'importanza non secondaria in quello che succederà dopo alla vita di Papa Perluol, vero? Sì, perché Ester Ballestrino era la sua... Lui faceva la scuola superiore, istituto tecnico, studiava come perito chimico e aveva sia lezioni teoriche sia pratiche al laboratorio e la capa del laboratorio era questa Ester che era una comunista, comunista atea che veniva da una militanza nel partito comunista in Paraguay che era scappata in Argentina per sfuggire al regime. e dice, questa Ester mi insegnò a pensare. Ma io lì a quel punto poi gli ho chiesto... Ester era una comunista. Lei è stato, come dire, istruito, è stato così un po' da Ester, quindi ha ragione chi dice che lei è comunista, e lui dice, guarda, io non ho mai abbracciato l'ideologia comunista, mai, né comunista né marxista, me l'hanno detto che io sono comunista marxista, ma io non ho mai abbracciato quell'ideologia lì, però mi interessavo alle pubblicazioni del Partito Comunista, nuova palabra, ecco, sì, ve lo leggo, dice, questo è Papa Francesco che parla, e dice, qualcuno dopo la mia elezione a Papa ha detto che parlo spesso dei poveri perché anche io sarei un comunista o un marxista. Anche un cardinale amico, una volta, mi ha raccontato che una signora, una buona cattolica, gli ha detto di essere convinta che Papa Francesco fosse l'antipapa, la motivazione è perché non uso le scarpe rosse. Ma parlare dei poveri non significa automaticamente essere comunisti. I poveri sono la bandiera del Vangelo e sono nel cuore di Gesù. La povertà non ha ideologia, la Chiesa non ha e non può avere ideologie. Non è un Parlamento, come dico spesso, non si può ridurre tutto a fazioni di destra o di sinistra. Prendiamo, per esempio, gli Atti degli Apostoli, al capitolo 4, versetto 32, dove si legge che la moltitudine di coloro che erano diventati credenti, aveva un cuore solo e un'anima sola e nessuno considerava a sua proprietà quello che gli apparteneva. Ma fra loro tutto era comune. Ecco, nelle prime comunità cristiane si condivideva la proprietà. Questo non è comunismo, questo è cristianesimo allo Stato puro. Quindi lui di fatto racconta, dice, è vero che io leggevo i giornali del Partito Comunista, leggevo le pubblicazioni che Esther mi dava da leggere, leggevo i libri maxisti che Esther mi dava, ma lo facevo solo per una curiosità, perché volevo capire il modo di pensare di questa gente. Esther era atea, non credeva in Dio, dice, però era rispettosa, non ha mai detto una parola fuori posto, però a me interessava capire perché avevano questo tipo di pensiero. E quindi per questo lui si interessa a queste tematiche. Poi vi posso dire, è un uomo libero, Bergoglio, è un uomo totalmente libero. lo accusano di essere comunista e allo stesso tempo lo accusano di essere ultraconservatore. Questa è la prova che è libero nelle sue decisioni e non segue nessuna ideologia. Non segue neanche la curia. Dicevo, non segue neanche i dettami tradizionali della curia romana. Assolutamente no. E' un papa che ha stravolto totalmente il modo di fare il papa. Di fatto. Noi eravamo abituati a papi che seguivano rigorosamente il protocollo, papi che, se chiamavano qualcuno, c'erano venti filtri prima, è comunque mai accaduto che un papa chiamasse un fedele, un battezzato, una mamma che gli scrive mio figlio è autistico, prega per lui, e lui prende il telefono e chiama quella mamma della provincia di Milano per consolarla. Questo non è mai accaduto. Sì, magari è accaduto, non lo sappiamo noi, magari è accaduto in privato, però ci sono dei protocolli che il Vaticano segue storicamente da millenni e che questo papa ha totalmente stravolto. Il papa che, quando c'è stato l'attacco della Russia in Ucraina, è andato lui personalmente dall'ambasciatore russo presso la Santa Sede a dire fermatevi e non era mai accaduto. E a chi ho chiesto io in Vaticano mi hanno detto ma non è da protocollo che un papa esca dal Vaticano per andare lui dall'ambasciatore russo al massimo si convoca un ambasciatore. Invece no, lui ha chiamato prendiamo la macchina dobbiamo uscire ma Santità dove andiamo? Dobbiamo andare all'ambasciata russa presso la Santa Sede ma Santità guardi che il protocollo usciamo. Ma tutti i gesti che vediamo del papa sono rivoluzionari da questo punto di vista. Lui ha totalmente cambiato tant'è che qualcuno e io poi glielo ho chiesto con un filo di paura e di terrore dico ma qualcuno dice che lei sta distruggendo il papato facendo così e lui mi ha guardato è rimasto un attimo così lui dice quando mi prendo la sprovvista io mi ammutolisco e lui si è ammutolito effettivamente perché forse non si aspettava questa mia domanda sta distruggendo il papato e lui mi ha guardato un po' così e dice ma io cosa ci posso fare? io sono un prete io sono un prete io ho la vocazione da prete i preti devono stare in mezzo alla gente Gesù Cristo non stava sul trono Gesù Cristo non stava a tre metri di altezza Gesù Cristo stava in mezzo alla gente io sono un prete e voglio stare in mezzo alla gente quindi il mio modo di fare il papa è questo qui poi chi verrà dopo di me lo farà come vuole e forse non sarà casuale che il papa Bergoglio è stato ordinato sacerdote nello stesso anno in cui l'uomo è sbarcato sulla luna era il 1969 e Fabio affronta questo argomento un po' per ricordare la data il 20 luglio ci fu lo sbarco sulla luna a dicembre Bergoglio fu ordinato sacerdote ma io ti chiedo questa cosa soprattutto perché da come scrivi Papa Bergoglio ricorda quell'anno per dire oggi che senso ha il progresso della scienza allora come oggi sì ne approfitta ne approfitta per per lanciare un messaggio anche attuale perché non è solo un libro storico lui ne approfitta anche per dire delle cose parla anche dell'intelligenza artificiale a tal proposito dice il progresso è fondamentale si deve andare sempre avanti ma deve essere armonico con la capacità dell'essere umano di gestirlo se non è armonico e va avanti da solo si trasforma in qualcosa di inumano che non si può gestire succedeva allora e succede oggi ad esempio con l'intelligenza artificiale che è sempre più presente nella vita di tutti noi e che se utilizzata in modo sbagliato criminale può essere un grande pericolo pensiamo alle fake news pensiamo a tutti alle false prove costruite con questi nuovi strumenti tecnologici ciò non può che sollevare nuove riflessioni e aprire questioni inedite è necessario un approccio etico dice il Papa deve esserci l'etica deve esserci l'essere umano al centro anche sull'intelligenza artificiale tanti ne parlano e dicono c'è la paura che si perdano posti di lavoro per questo il Papa dice deve esserci un'etica che tuteli l'essere umano dicevi ogni tanto rimane perplesso di fronte alla tua domanda e ho letto in vari punti che praticamente rimane stupito anche della sua stessa carriera quando viene nominato arcivesco vescovo ausiliare quando viene non dico per arrivare al giorno al giorno dell'elezione a Papa con tutti questi momenti in cui lui sembra veramente ma tocca a me sì perché non non se l'aspettava quando era quando vi dicevo che era lì in esilio dice avevo tanto tempo rimanevo chiuso in camera allora in libreria lì in biblioteca dai gesuiti c'era la storia dei papi 34 volumi grossi così dice li ho letti tutti anzi quasi tutti forse inconsciamente sapevo che qualcosa doveva accadere nella mia vita Gesù Dio mi stava preparando a qualcosa serviva un momento di purificazione per affrontare poi qualcosa che sarebbe accaduto successivamente e lui racconta di questo stupore che lo coglie ogni volta che riceve queste notizie tipo il nunzio apostolico che lo convoca e che in aeroporto gli dice diventerai vescovo ausilare di Buenos Aires e lui rimane stupito perché era in mezzo al nulla e all'improvviso diventa vescovo ausilare di Buenos Aires ma anche quando diventa papa e c'è questo racconto che io sono rimasto affascinato perché lui racconta racconta e ricorda precisamente tutto quello che è accaduto in quei giorni del conclave e lui dice che era l'ultimo giorno dice c'erano le congregazioni generali dove i cardinali parlavano tenevano un discorso io ho fatto un discorso da tre minuti che è stata la mia condanna perché quel discorso lì dopo che io ho tenuto quel discorso in cui lui parla di questa chiesa che deve essere missionaria che vada nelle periferie di una chiesa che vada incontro alla gente non che aspetti la gente che venga ecco questa chiesa missionaria c'è stata la mia condanna e dice il giorno in cui c'è stata la mia elezione io ancora non avevo capito che sarei diventato papa e dico ma come ha fatto a capirlo ci sono stati tre segnali tre indizi eravamo andati la mattina a votare nella cappella Sistina questo lo racconta lui tutto con una precisione incredibile la mattina eravamo andati a votare torniamo a Santa Marta perché tutti i cardinali erano reclusi tra virgolette a Santa Marta per non avere contatti con l'esterno dice è uno di un cardinale cubano mi chiede una copia di quel discorso che avevo ottenuto quel famoso discorso di tre minuti io non avevo una copia lo ha trascritto a penna e sono salito su al quinto piano a portargli gli consegno al cardinale cubano questa questa copia mi scuso dico non ho non ho una fotocopia l'ho dovuto riscrivere a mano e dice il cardinale cubano gli dice ah bene grazie così potrò portarmi a Cuba un ricordo del nuovo papa e dice e lì io rimasi un po' perplesso ma dice ancora non capivo poi prende l'ascensore per scendere giù e incontra il cardinale cileno Razzuriz che gli dice ah Orge allora hai preparato il discorso per questa sera quando ti affaccerai sulla loggia della basilica dice io rimasi insomma questo forse ha perso un po' la testa però quello era il secondo indizio ancora non capivo però evidentemente i cardinali già parlavano tra di loro e facevano il mio nome poi scendo a pranzo nel refettorio e i cardinali europei mi dicono ah guardi c'è il cardinale di Buenos Aires venga venga Eminenza venga ci racconti un po' del Sud America venga qui ci racconti un po' del Sud America dice io come uno sciocco sono andato e questi ci hanno fatto un interrogatorio che non finivano più gli europei poi uno di questi europei il cardinale il Santo Sabrilli Casteglio che è uno spagnolo che lui conosceva dai tempi dell'Argentina lo avvicina e gli dice ma scusi Eminenza scusi la domanda ma ma è vero che a lei manca un polmone e lui dice no non è vero dice però è vero che ho subito un intervento al polmone destro ma avevo delle cisti e mi hanno rimosso il lobo superiore del polmone destro dice questo quando è successo cioè dice siamo nel 2013 è successo nel 57 dice questo cardinale cambia espressione si arrabbia dice queste manovre dell'ultimo momento dice lì ho realmente realizzato che stavano iniziando a parlare di me come Papa e che evidentemente qualcuno per affossarlo aveva messo in giro la voce che era senza un polmone e quindi non si può eleggere un Papa che non ha un polmone che morirebbe poco dopo e lì racconta una cosa davvero incredibile che forse posso farvi sentire proprio dalla sua viva voce si ce l'ho vi anticipo che questo è quando loro entrano quel pomeriggio per la votazione era il pomeriggio del 13 marzo loro dovevano andare nella cappella Sistina per votare e lui racconta questo qui vediamo se è questo vediamo tra l'altro tra l'altro lo dico anche ad Andrea fu il cardinale re a porgli le due domande previste dal rito e che certificavano su quel faccio sentire questo è il suo racconto di quel momento esatto vediamo se si sente bene la cosa è un po' strana come io mi sono accorto lì al pranzo quando siamo arrivati lì c'era Ravassi e abbiamo iniziato a parlare con Ravassi perché io usavo i libri di Ravassi per dare i libri sapensiali gli gogiopi dai camminando e io non volevo entrare mai inconscio da quello è uscito il maestro Sermoni se voi due entrate o non entrate scusami ma questo dove? davanti alla Sistina ecco e quindi dopo tutto quello che era successo a pranzo lui inconsciamente non voleva entrare nella cappella Sistina perché evidentemente già sapevo che mi avrebbero eletto e quindi perdeva tempo col cardinale Ravassi lì davanti all'ingresso della Sistina a chiacchierare tant'è che a un certo punto lo devono tirar dentro finché non trova il cardinale re trova poi il cardinale re dopo c'è l'applauso e il cardinale re in quanto decano del del collegio del cardinalismo lui era sì faceva le veci del decano esatto che gli pone le due domande previste da Ravassi accetti la tua elezione canonica sommo pontefice prima e seconda con quale nome vuoi essere chiamato? e lui dice Francesco dice Francesco perché il suo vicino di posto era il cardinale brasiliano Ummes che gli sussurra all'orecchio non dimenticarti dei poveri e lui a quel punto gli viene in mente San Francesco d'Assisi e si fa chiamare Francesco e dedicare tutto il suo pontificato ai poveri i poveri che peraltro hanno avuto un ruolo molto forte nella sua vita perché parte da una famiglia modesta la sua però a Buenos Aires lui da arcivesco ha lavorato tanto in mezzo ai poveri nelle viglias miserias quindi conosceva bene appunto la povertà e quindi ha dedicato il suo pontificato ai poveri tra l'altro quell'intervento che lui fece nel conclave insomma è riportato integralmente nel libro e sono tre paginette nelle congregazioni generali nelle congregazioni generali è riportato integralmente ed è diciamo così il discorso che lo ha fatto diventare Papa breve e intensissimo non ve lo leggiamo ma chi compra il libro poi se lo trova allora una cosa che mi ha colpito non so se qualcuno di noi ha visto Abemus Papam di Nanni Moretti è un film apparentemente dissacrante su come funziona la Chiesa ebbene Papa Bergoglio l'ha visto l'aveva visto prima lo doveva vedere lo riporta sul libro puoi raccontare sì perché lui quando parte per il conclave perché fu un fulmine a ciel sereno non immaginava che Benedetto si dimettesse quindi lo chiamano da Roma si è dimesso il Papa lui va a fare questo biglietto parte dice ho lasciato sulla scrivania oltre alle omelie che avrei dovuto pronunciare nella messa crismale la domenica delle palme prima e poi alla messa crismale e alla messa in cena domini lasciai anche il DVD di Abemus Papam che avrei visto al ritorno dice alla fine non l'ho visto il Papa sono diventato io quindi è una cosa un po' un po' particolare questo è un po' perché molto sportivo a parte i personaggi che è solito ricevere è nato nel libro si parla molto di questa sua predilezione un po' per lo sport tifoso del San Lorenzo si parla di Maradona e della mano di Dios ecco è realmente così lui si è realmente così anche se lui non guarda la televisione perché ha fatto un voto alla Madonna del Carmelo dal 1990 non guarda più la tv ho detto grazie visto che io lavoro in tv la devo ringraziare per questo voto che ha fatto e lui dice no no ma io quando ci sono delle cose importanti le guardo infatti c'è qualcuno che gli manda gli taglia dei video e poi glieli fanno vedere con un tablet gli fanno vedere delle cose essenziali però lui da bambino già era tifoso tutta la famiglia andava allo stadio a vedere il San Lorenzo e poi racconta l'episodio perché io poi un capitolo l'ho voluto dedicare alla vittoria dell'Argentina ai mondiali di calcio sapendo che lui è tifoso e lui quell'anno si trovava in Germania perché stava finendo la tesi dottorato su Romano Guardini e doveva perfezionare il tedesco quindi era lì in Germania e quella finale anzi la semifinale e poi la finale io non le ho volute vedere non le ho volute vedere perché ho preferito andare a passeggiare vicino al fiume a recitare il rosario non gli ho chiesto se era per scaramanzia perché in teoria a un papo non si può chiedere se sia scaramantico però l'ho detto no ho preferito andare vicino al fiume a passeggiare però mi raccontarono di quell'episodio del gol di mano di Maradona che face il giro del mondo tant'è che quando Maradona lui racconta la mano dei Dios e quando dice Maradona è venuto in Vaticano alcuni anni fa prima di morire ovviamente andò in Vaticano è venuto lì abbiamo parlato di tante cose e dice poi alla fine non ce l'ho fatta questo racconta il Papa nel libro dice non ce l'ho fatta e ho dovuto chiedere ma qual è la mano incriminata delle due e hanno fatto una risata così un po' per sdrammatizzare ma per dire quanto è bravo Fabio per raccontare questo episodio è lui che come dire sceglie e mette le parole del Papa scritte nel libro non usa mai la parola Dio mai perché 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 i comandamenti dicono non nominare il nome di Dio in vano quindi il Papa non dice mai la mano di Dio mai qual è la mano incriminata veniamo a uno dei capitoli che più mi ha colpito e siamo quasi alla fine non tanto per il Covid è un momento storico di questa storia tracciata da Fabio ma lo è diventato anche grazie a quell'immagine incredibile che ha fatto il giro del mondo Papa Bergoglio che da solo sotto la pioggia sale nella scalinata verso San Pietro in una piazza deserta e è figlia quell'immagine lì di un personaggio che viene spesso a Ponte di Ligno lo puoi raccontare? Sì perché il Papa racconta che l'idea di quella preghiera straordinaria in piazza San Pietro fu di Don Marco Pozza che gli consiglio di fare un momento di preghiera straordinaria perché c'era bisogno e lì mi ha colpito tanto il Papa perché l'ho trovato commosso quando mi parlava del Covid e lì racconta tutto quel giorno la preparazione il pellegrinaggio a piedi che ha fatto per le strade di Roma al crocifisso miracoloso e lui racconta perché poi la curiosità sì ovviamente la preghiera era un momento drammatico nel silenzio questo Papa da solo che cammina che attraversa la piazza che sale lì si chiama il ventaglio quell'area della piazza che sale attraverso il ventaglio verso il sagrato e io ho detto ma cosa pensava in quel momento lì mentre saliva a piedi l'ha visto tutto il mondo quell'immagine lì e lui ha detto non lo racconta bene dice non pensavo a niente di straordinario pensavo alla solitudine della gente ero io da solo lì in piazza e pensavo a tutta la gente che era da sola la gente da solo a casa gli anziani da soli nelle case di riposo gli ammalati da soli nei reparti che non potevano incontrare i familiari e in quell'abbraccio che è piazza San Pietro che è un abbraccio quel colonnato io immaginavo di poterli abbracciare tutti e avrei voluto fare tanto avrei voluto fare tanto di più avrei voluto andare negli ospedali a consolarli avrei voluto far compagnia agli anziani nelle case di riposo però dice anch'io ero bloccato in Vaticano ero ingabbiato utilizza questa parola ero ingabbiato in Vaticano non potevo fare tutto ciò che volevo e poi c'è una cosa molto particolare perché lui si fa portare lì sul sagrato il crocifisso miracoloso che aveva salvato Roma dalla peste nel 1600 e lui racconta che si rivolge al crocifisso un po' come Don Camillo come faceva Don Camillo nei film che abbiamo visto con Fernandell e lui si rivolge al Signore e io ho immaginato lì l'immagine di Don Camillo che parla col crocifisso e lì il Papa che parla col crocifisso che gli dice mettici tu una mano mettici mano tu pensaci tu e mi sono rivolto a lui come se mi rivolgessi a un amico alla fine questo è il segreto il momento più bello è stato quando ho baciato i piedi al crocifisso perché è stato il momento che mi ha dato più speranza ci pensa lui è morto in croce per noi e ha dato la sua vita per l'umanità e oggi lui può essere quello che ci può salvare e quello dice mi ha dato speranza e un po' io ho avuto queste immagini un po' come Don Camillo che parla col crocifisso e dice mettici tu una mano pensaci tu pensaci tu questa è stata una cosa molto bella ecco io lascerei un attimo il libro per arrivare all'attualità ecco quanto quanto soffre o quanto ha sofferto per le polemiche che hanno attraversato fino adesso il suo pontificato sì sarò breve perché siamo in chiusura sono cose che lo fanno soffrire le polemiche le critiche che gli fanno e lui più volte mi sono sentito da solo tante volte perché il papa è il papa ognuno pensa il papa per oggi mi sono sentito da solo nelle mie scelte e nelle mie decisioni però vive le critiche in modo sportivo potremmo dire perché dice le critiche sono giuste alla fine aiutano a crescere però dice l'importante è che te le facciano in faccia e non come coltellate alla schiena se uno io apprezzo di più uno che venga che mi venga a dire guardi io non condivido questo questo e questo mi aiuta a crescere uno stimolo a fare meglio se invece ti fanno le critiche alle spalle quello diventa chiacchiericcio e dice la lingua può essere più affilata di un coltello in quei casi lì e lui utilizza questa questa immagine della lingua che diventa un coltello perché purtroppo lì lo sa bene e lui ora ultimamente lo dice pure chiude il libro così vi faccio questo spoiler chiude il libro dicendo serve preghiera serve pregare pregate per me a favore e non contro ed è una battuta che fa pregate a favore non contro e io glielo ho pure chiesto poi un giorno ho detto ma perché lei dice pregate a favore e non contro dice sai perché perché dice durante un'udienza c'era una vecchina che era lì che mi salutava poverina e io ho fermato tutti e dico devo andare a salutare quella signora lì mi sono avvicinato dicendo una signora semplice avrà avuto forse la quinta elementare una signora molto anziana ma di una semplicità rara per far capire che non era una persona molto colta e questa signora ho detto mi raccomando preghi per me cioè la signora mi ha risposto ah guardi dal canto mio può star sicuro che io tutte le sere prego per lei dice ma lei deve stare attento perché qui dentro indicando il Vaticano non credo che tutti preghino per lei anzi dice questa cosa mi è rimasta impressa e adesso dice pregate per me a favore non contro e ora ha aggiunto anche un'altra cosa e se c'è qualcuno che non crede allora mandatemi buone onde onde positive queste quante ascolta si parla si parla ogni tanto di dimissioni del Papa ecco tu a questo punto si può dire che lo conosci benissimo sei convinto che possa arrivare a una decisione del genere secondo me no nel senso che lui ha detto più volte che il papato è a vita che non pensa alle dimissioni e poi personalmente posso dirvi che vedendo l'entusiasmo con cui mi ha parlato dei prossimi impegni il giubileo il sinodo i viaggi da fare adesso i primi di settembre c'è il viaggio in Asia un giovanotto ha 87 anni quasi 88 starà in Asia dal 2 al 13 di settembre quindi dimissioni non ci pensa proprio poi c'è un altro viaggio Lussemburgo e Belgio a fine settembre c'è tanti progetti c'è tante cose da fare il giubileo sia appunto il giubileo 2025 tanti già non arriva il giubileo però a me sembra che si sia anche un po' ripreso fisicamente tanti mi chiedono ma come sta esatto ma io lo trovo molto lucido perfetto ha qualche difficoltà alla gamba al ginocchio perché lì ha un problema all'anca è un problema al ginocchio che gli crea questo problema quindi per camminare devo usare il bastone o nei lunghi tragitti la sedia durante una delle nostre conversazioni che durava 2-3 ore a un certo punto ho visto che toccava la gamba e io mi sono un po' sentito un po' in colpa perché dico lo sto trattenendo qui seduto magari ha bisogno di alzarsi magari ha bisogno e ho fatto questo gesto di guardare l'orologio mai l'avessi fatto perché lui se n'è accorto e mi dice ma già te ne vuoi andare dico no santo padre che ho visto che magari no no dice tu andiamo avanti poi quando avrò bisogno mi alzerò quindi a parte il problema al ginocchio io lo trovo davvero in forma rispetto all'anno scorso lo trovo meglio una domanda più che sul papa sul suo lavoro cosa significa fare il vaticanista che è una professione proprio sui genesi nel mondo del giornalismo è facile è difficile come ti trovi adesso immagino che questo tuo rapporto privilegiato con il papa ti abbia come dire ti renda ti faccia invidiare da tanti colleghi al punto di diventare un po' infatti questo libro è uscito per San Giuseppe marzo 2024 e io dal marzo 2024 non accetto più caffè da nessuno in Vaticano perché c'è il tentativo di qualcuno che vuole no a parte gli scherzi però è un mondo in cui bisogna sapersi muovere bisogna essere ecumenici e lo puoi raccontare quel che puoi dire sì no è un mondo molto particolare dove è come se fosse un paese che è uno stato alla fine il Vaticano dove tutti si conoscono e dove il papa ha ragione quando c'è le chiacchiere perché il pettegolezzo è lo sport principale che si pratica non dico tanto ad alto livello ma negli uffici tra la gente lì sono principalmente sacerdoti suore una volta ricordo un nuncio apostolico che disse una frase un po' forte che io ci ho pensato tanto che è un po' quello della vecchina del papa mi disse attento a fare il vaticanista non perdere la fede perché purtroppo si trovano dei personaggi che sono lì per lavoro ovviamente sono dei sacerdoti che però hanno un lavoro quindi lavorano e si comportano ovviamente come se è un posto lavoro poi il pomeriggio fanno i sacerdoti vanno in chiesa confessano ci sono tantissimi santi questo lo dice pure il papa qui è pieno di gente per bene ci sono ovviamente come in tutti gli ambienti dei piccoli personaggi che rovinano un po' però come dice il papa non bisogna fare tutta l'erba un fascio ci sono tanti santi e ci sono anche dei personaggi che lo racconta anche lui nel libro quando ero ricoverato in ospedale già facevano le cene per pensare al prossimo papa quindi dice questo purtroppo dice umano io non mi scandalizzo è umano altrimenti non saremmo esseri umani succede la politica arriva anche lì il paradosso è che da quando lui ha questo rapporto privilegiato ed è molto invidiato deve stare molto attento a come si muove perché c'è gente che gli vuole male non più bene però per fortuna diciamo che sono più quelli che mi vogliono bene che quelli che che mi vogliono male però abbiamo fatto un servizio tanti l'hanno hanno capito che questo libro alla fine è un servizio che è stato fatto agli altri certo tra colleghi c'è sempre quella punta di invidia però come dice il papa è umano anche questo quindi che ci possiamo fare tra l'altro il libro sarà diventerà un film probabilmente ci puoi dire qualcosa riguardo? sì ancora è tutto riservato quindi rimane tra di noi no rimane rimane tra di noi però potrebbe potrebbe so che c'è interesse da parte di diverse case di produzione potrebbe diventare un film no quello che si può dire è che è uscito in 21 paesi e che questa è una bella notizia uscirà anche in Cina dove il papa non è che sia conosciuto granché uscirà in Indonesia in Cina in India in tanti paesi in Corea del Sud uscirà in tanti paesi dell'Asia e il papa era molto contento di questo quando glielo ho detto perché lui tiene tanto all'Asia perché è una terra dove c'è tanti cristiani che vivono ancora come a Roma ai tempi delle catacombe quindi nascosti perché non possono praticare la loro fede e questo è un modo anche per dare una boccata d'aria a questa gente è uscito anche in Vietnam e lì da poco sono iniziate le relazioni diplomatiche tra il Vaticano e il Vietnam e la cosa curiosa è che non sapevamo che fosse uscito in Vietnam l'abbiamo scoperto per caso l'abbiamo scoperto così casualmente che era uscito anche in Vietnam neanche la casa editrice ne sapeva niente quindi hanno preso il libro e l'hanno pubblicato l'hanno tradotto in vietnamita e l'hanno pubblicato dicendo ah ma noi pensavamo che fosse un documento papale quindi loro quindi loro hanno preso l'edizione inglese l'hanno tradotto in vietnamita e l'hanno diffuso io l'ho l'ho riferito però lui mi ha detto ma sì lasciateli fare dice è un modo per evangelizzare e così l'abbiamo vissuto grazie se qualcuno se qualcuno vuol fare qualche domanda noi abbiamo cercato di farne di farne molte ci siamo dimenticati probabilmente di qualcosa se qualcuno è interessato a fare qualche domanda a soddisfare una propria curiosità ecco qui il microfono vorrei sapere se nel libro si affronta da un punto di vista se non altro umano o di amicizia il suo rapporto con Benedetto XVI perché su internet ci sono state molte fake news come se Benedetto XVI si fosse dimesso ma fosse rimasto papa come se il nuovo papa in realtà non fosse stato il nuovo papa ma solo l'arcivescovo di Roma si gira questa è una teoria come si è sviluppata la collaborazione tra papa Francesco e il dimissionario Benedetto XVI no la ringrazio perché così almeno si fa chiarezza su questo punto perché circola questa leggenda che il papa in realtà Benedetto non si è mai dimesso che ha usato una formula per non dimettersi e che invece papa Francesco è un impostore uno che sta lì sul soglio di Pietro ma non dovrebbe stare lì in realtà lo stesso Benedetto ha sciolto qualsiasi dubbio dicendo che alcuni questo cito Benedetto XVI da papa emerito che ha detto che alcuni suoi amici un po' fanatici non hanno mai accettato la sua rinuncia perché hanno perso potere e si sono arrabbiati con lui e quindi hanno iniziato a creare questo questo caos papa Francesco nel libro parla del suo rapporto con Benedetto dice Benedetto era un signore dice io sono andato è stata la prima persona che ha chiamato quando è stato eletto papa è la prima persona che ha incontrato dopo quando papa Benedetto stava a Castel Gandolfo e papa Benedetto gli ha passato le consegne gli ha dato non so se ricordate quella foto che sono papa Francesco papa Benedetto e c'è uno scatolone bianco a Castel Gandolfo ecco lì in quello scatolone c'era il dossier Vatilix quando era scoppiato lo scandalo dei documenti rubati dice papa Benedetto mi passò le consegne e mi disse io ho fatto una parte del lavoro adesso tocca a te continuare quello che io ho fatto più passaggio di consegne di queste io non vedo altri dubbi e ma affronta anche il tema del fatto che qualcuno ha creato divisioni tra i due papi e papa Francesco dice purtroppo qualcuno ha seminato zizzania per coltivare il proprio orticello perché ha perso potere perché era insoddisfatto del ruolo che ha avuto dopo la fine del pontificato di Benetto XVI qualcuno ha fatto politica anziché chiesa anziché essere chiesa ha fatto politica e quindi ha coltivato il suo orticello ha seminato zizzania e il papa dice questo ha dolorato me perché sono il papa regnante ma ha dolorato tanto anche Benedetto e ne hanno parlato ha creato un dolore anche a Benedetto che perché inizialmente Benedetto voleva vivere nel nascondimento non voleva più apparire in pubblico papa Francesco lo racconta io lo convinzi a trasferirsi in Vaticano perché lui voleva rimanere a Castel Gandolfo io lo convinzi a venire in Vaticano e a partecipare alla vita pubblica della chiesa in modo tale da essere presente per evitare leggende su qual è il papa dove è il papa chi è il papa per evitare leggende io ho chiesto di partecipare alla vita pubblica in modo tale che non ci fossero polemiche che si capisse che lui era il papa emerito e io ero il papa regnante nonostante ciò qualcuno ha creato lo stesso la polemica per per insoddisfazione personale alla fine quello lì il motivo quindi sì ne parla affronta il discorso si si affronta il discorso volevo sapere se non ha mai parlato il papa con lei di una sua possibilità di ritornare a visitare la sua Argentina che nel libro parla tanto della sua Argentina però finora non è mai ritornato nell'Argentina ci sono delle motivazioni non è tornato e ne parla nel libro ho chiesto tornerà il presidente argentino lo ha invitato la conferenza episcopale argentina lo ha invitato lui ha detto che farà il possibile per andare l'età è quella che è però se affronto un viaggio in Asia di 13 giorni in teoria dovrei farcela e spera lui dice spero di poter tornare soprattutto per dare vicinanza al popolo argentino perché in questo momento la situazione è drammatica a livello di povertà e dice serve un viaggio di pacificazione nazionale perché l'Argentina è un po' nel caos quindi lui dice io spero nel 2024 di poter tornare in Argentina però dice mi affido al Signore a quello che deciderà lui se sarò in grado di andare però non ho trovato una resistenza da parte sua al dire no ho chiuso con l'Argentina lui è molto possibilista e dice che spera di poter tornare ecco io ho notato questo che lui nei suoi viaggi non è mai stato in Spagna non è mai stato a Madrid non è mai stato in Francia a Parigi è stato a Marsiglia ma non a Parigi non è mai stato nelle grandi capitali europee perché dice io voglio prediligere quei posti piccoli le periferie del mondo dove mai avrebbero immaginato che il Papa potesse andare quindi dice io voglio far sentire la mia vicinanza a chi non ha mai visto il Papa quindi la mia priorità è fare prima tutti i paesi piccoli vedete va in Lussemburgo in Belgio si è andato negli Stati Uniti perché doveva andare a parlare all'ONU doveva presentarsi alle Nazioni Unite però ecco ha fatto tutti i paesi se vogliamo di serie B e anche i cardinali che nomina sono cardinali che arrivano da paesi di serie B non ha fatto l'arcivescovo di Milano cardinale ha fatto Como non ha fatto l'arcivescovo di Napoli non ha fatto l'arcivescovo di Palermo ha fatto quello di Agrigento cambia un po' le carte in tavola perché io non voglio che si sia si è fatto storicamente così e così deve essere ecco lui preferisce dare ai piccoli che non hanno mai avuto nulla e poi se resta spazio anche ai grandi grazie e buona serata grazie 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 grazie